Allora wiki amici, perché si dice avere la coda di paglia? Significa che una persona ha commesso qualcosa di sbagliato o un torto e quindi assume un atteggiamento sulla difensiva per non essere smascherato. Il detto deriva dalla favola della volpe di Esopo. C'era una volta una volpe che aveva perso la sua coda perché era rimasta impigliata in una trappola. Così la volpe si fece una coda di paglia. Il gallo si fece sfuggire questo segreto e così i contadini per tenere lontano la volpe dal pollaio accesero dei fuochi tutto intorno. Se la volpe si fosse avvicinata troppo la sua coda sarebbe bruciata e tutti avrebbero scoperto il suo segreto. Ed ecco perché si dice avere la coda di paglia.